Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, finalmente siamo ritornati a fare un video e dopo tanto tempo ragazzi ci siamo ritrovati adesso faccio un video dove racconterò un po' di cose allora ragazzi, fra un po' si chiuderanno tutti i punti perché ci sono persone che non rispettano le regole ci sono delle regole che adesso vengono chiusi dalle 11 a fine alle 5 di mattina ma c'è gente che non gliene frega niente c'è gente che è ancora in giro a quell'ora io mi chiedo ragazzi ma ci rendiamo conto che fra un po' ci sarà la chiusura totale di piscine, di palestre, di supermercati e quindi ragazzi non è giusto dovete ascoltare chi vi dice di stare a casa è una regola ma adesso vediamo domenica cosa succede e vediamo un po' la situazione e diranno che chiuderanno anche le regioni speriamo che le regioni non li chiudano perché sarà un bel peccato per noi e quindi ragazzi dobbiamo stare allerta se chiudono le regioni noi purtroppo non possiamo andare negli altri posti in fine settimana e quindi dobbiamo stare nella stessa regione e quindi che dire ragazzi rispettiamo le regole che ci rendono che ci dicono di fare a questo punto ragazzi non so che dire ma dobbiamo aspettare le regole noi siamo messi male siamo ridotti male e questo non è giusto sempre per colpa di certe persone che non rispettano le regole e quindi ragazzi cerchiamo di rispettare tutte le regole e e andare d'accordo è una cosa facile da fare non è tanto difficile e quindi cerchiamo di rispettare stiamoci a casa che fra un po' più sicuro che arriva il rock down come si dice? log down quindi ragazzi state allerta statevene a casa e basta iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei miei prossimi video ciao a presto a presto a presto